Grazie della parola. Io purtroppo voterò contro questo subemendamento e vorrei brevemente spiegare perché. Dico purtroppo perché so che il Vicepresidente Leodori ha lungamente cercato di trovare una mediazione tra diverse posizioni su questo argomento e lo ringrazio anche di questo suo lavoro ma questo testo e questo emendamento che stiamo per votare secondo me non riesce a cogliere tutti gli aspetti che chi come me è preoccupato per la diffusione dell'azzardo e della patologia, l'azzardopatia che si lega alla diffusione dell'azzardo ha a cuore. Io sottolineo alcuni aspetti. Mi dispiace che il primo forse direi è più culturale e politico. Cioè in questi anni anche tanti in quest'Aula che hanno voluto questa legge hanno cambiato idea. Nel 2013 tante regioni in Italia hanno fatto delle norme per venire incontro alla zardopatia e poi nel tempo alcune di queste regioni se le sono rimangiate e oggi in parte anche la nostra regione se le rimangia come se la preoccupazione da cui erano nate le leggi nel 2013 venisse meno quando invece in questi anni purtroppo l'azzardo è cresciuto e tanti e tanti nostri concittadini sono caduti nelle maglie dell'azzardo. Cito solo l'ultima cosa che mi ha colpito e di qualche giorno fa una relazione della Corte dei Conti sull'usura che cita la zardopatia tra le ragioni per cui alcune persone sono cadute nell'usura come tanti diciamo sono caduti nell'aspetto proprio medico della zardopatia. Ecco io credo che questo tema del gioco si sia diffuso tantissimo il fatto di eliminare il distanziometro di ridurre il distanziometro e fa sì mi colpisce che alcuni colleghi sensibili dicano non è che se ci sono più giochi si diffonde di più la patologia è esattamente così se ci sono più giochi si diffonde di più la patologia e quindi per esempio non differenziare ciò che sono le sale gioco esplicite dai bar ai tabacchi dove entrano tutti i bambini, tutti i ragazzi, tutti i cittadini e si trovano in continuazione macchinette, grattevinci, enalotto eccetera e fa crescere esattamente questo. E poi l'altro tema io non conosco un bar o un tabaccaio che abbia assunto un lavoratore per avere le macchinette dentro al proprio esercizio commerciale. Questo tema dell'occupazione è stato strumentalizzato e lo dicono anche diversi sindacati. Grazie, grazie Presidente. Per questo purtroppo nonostante poi l'emendamento inserisca alcune norme che condivido sui tempi, sugli orari, mi troverò purtroppo a votare in dissenso anche dalla mia maggioranza, questo come sempre mi dispiace ma è un tema che conosco troppo bene e che mi sta troppo a cuore per non esprimere il mio dissenso. Grazie. Grazie, consigliere Ciani.